E' ormai inserito a pieno titolo nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Campania e la sua cultura, nata nel Mediterraneo orientale, mira a rilanciare oggi l'agricoltura nelle aree interne. Stiamo parlando di una grande risorsa di nome Zafferano, le cui proprietà, caratteristiche e usi sono state al centro di un interessante incontro promosso da Embriano Macchine Agricole alla frazione Piano Pantano di Mirabelle Clano. E' un prodotto dove uno può trarre reddito perché? Perché porta alla fine, la trasformazione prende il frutto e lo vende, quindi ha una catena chiusa e quindi sicuramente la possibilità di guadagnare. Bisogna che lo zafferano venga usato sempre dalle famiglie anche in quelle zone dove si è persa la tradizione. Oggi abbiamo la fortuna di avere questo abbinamento, lo zafferano all'olio che apparentemente sono due prodotti molto distinti tra loro ma in effetti hanno una particolarità, l'alta qualità e la particolarità al consumatore. Mario è uno dei simboli di questa terra? Assolutamente sì, per noi è una memoria storica e questo è testimonia come oggi nonostante tutto c'è la forza di andare avanti. Ne sono convinta, è una cosa diciamo così che è il futuro e l'olio. Sono stati fatti dei piccoli sperimenti a mettere dei pistilli di zafferano dentro l'olio per aromatizzare l'olio allo zafferano e quindi abbiamo sposato questo zafferano e olio di imbriano facendo questa cosa e vediamo che cosa succederà durante la campagna con questo nuovo prodotto che stiamo iniziando a commercializzare.